La Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha firmato l'ordinanza per la dichiarazione dello stato di emergenza calore per tutto il territorio regionale per domani, domenica e lunedì 5 agosto. Nel corso delle tre giornate in cui è prevista l'emergenza, spiega la Regione, i Comuni e le Asla dovranno provvedere ad attivare ogni opportuna iniziativa per prevenire e monitorare eventuali danni gravi alla salute della popolazione. Nello specifico andranno attivati tutti i servizi necessari alla salvaguardia e la cittadinanza, eventuali trasferimenti negli ambienti già individuati, dalle persone a rischio, la sorveglianza e l'assistenza ai soggetti non trasferiti ma comunque a rischio e l'organizzazione della protezione individuale e collettiva. I consigli di routine sono di anno in anno sempre gli stessi, evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, consumare molti liquidi, frutta e verdura fresca. Le cautele maggiori sono rivolte a cardiopatici, anziani e bambini.